Un saluto dal Tg della Mobilità. Sabato 9 e domenica 10 aprile all'Eur torna l'appuntamento con il campionato mondiale di Formula E. Sul fronte del trasporto pubblico il capolinea bus di Piazzale dell'Agricoltura è spostato sino all'11 di aprile a Piazzale Sturzo. Per quanto riguarda la viabilità dalla sera di giovedì 7 sino all'alba di lunedì 11 aprile è prevista la chiusura al traffico sia pubblico che privato di via Cristoforo Colombo tra Biale Europa e via delle Tre Fontane in entrambi i sensi di marcia. Ulteriori dettagli e i percorsi alternativi sono su romamobilita.it